Tutelare i diritti degli utenti, province e regioni assumono i provvedimenti necessari. I sindaci di Castelfo Cognano, Castel San Nicolò, Chiusi della Verna, Talla, Chitignano, Ortignano Raggiolo e Montemignaio chiedono la riconvocazione di un tavolo di discussione e misure immediate per sciogliere il nodo cantieri sulla regionale 71. I primi cittadini di questi sette comuni prendono spunto dalla situazione esistente sulla strada di Fondovalle. Meglio sarebbe stato, affermano i sette sindaci, avere prima la possibilità di un minimo di confronto tra imprenditori e tutti i dieci sindaci di Vallata e condividere una posizione comune, ma noi vogliamo dare comunque il nostro contributo di proposte anziché limitarci alle lamentele. Due sono i cantieri che ostacolano la circolazione, Rassina e Subbiano. I tempi di lavoro su quello di Rassina andranno ben oltre la scadenza iniziale del 9 agosto e appunto per questo i sette sindaci chiedono di intervenire con misure correttive immediate. Per quanto riguarda invece il cantiere di Subbiano, gestito dalla regione, per il quale sono emerse difficoltà inattese, dicono i sindaci, meglio sarebbe stato riconvocare il tavolo al momento in cui esse si sono manifestate. Ciò detto, conclude la nota dei sette sindaci, proponiamo di riconvocare il tavolo di concertazione per analizzare la situazione e condividere soluzioni, a cominciare da quelle da noi proposte.